Oggi pomeriggio alle 18 inauguriamo a partire dalla Galleria del Monte con una mostra di un fotoreporter che viene da Roma, lui si chiama Giorgio Bianchi, ci porterà a Fano una mostra molto speciale, è la storia di un villaggio ucraino che si chiama Spartak e purtroppo in questo momento c'è una guerra in corso, quindi le fotografie sono molto suggestive e ci racconteranno la storia molto intima e privata di questi abitanti che hanno deciso di rimanere nonostante delle difficoltà enormi. Poi dopo la Galleria del Monte andiamo a Casarredo, quindi al Palazzo dei Pili, qui c'è Cristina Pergolini, lei invece ci porterà un progetto di un peschereccio che è stato demolito qui a Fano l'anno scorso, queste fotografie raccontano un'architettura industriale, poi andremo al foyer del Teatro della Fortuna dove sono ospiti due mostre, una di Marcello Sparaventi con il suo centrale fotografia e una mostra di pittura su Guido Bianconi. Dal Teatro della Fortuna andiamo a Palazzo Bracci, allo Spazio Pagani, abbiamo come ospite Giordano Perelli, lui viene da Fano, è un incisore e dagli anni 70 ad oggi ci porterà tutta la sua storia artistica, creativa. Infine andremo alla Memo come ultima mostra, è dedicata a Mauro Biani, è un fumettista illustratore di grande livello, lui scrive per il Manifesto e anche per l'Espresso, porterà nella maniera specifica un tema che sono le nostre libertà e ci parlerà quindi di che cos'è veramente la nostra libertà nella nostra contemporaneità. Queste mostri sono visibili per tutta la durata del Festival, giusto? Sì, per tutta la durata del Festival, non solo, soltanto quella del Teatro della Fortuna terminerà con il Festival, quindi il 30 giugno, altrimenti le altre, compresa questa della Memo, sarà visitabili fino al 28 luglio, ingresso libero naturalmente.